La Juventus è vicinissima alla capitale tedesca, la Juventus è vicinissima a Berlino, la Juventus è in finale della Coppa dei Campioni, un manipolo di eroi, riesce a violare il Santiago Bernabeu e ad aggivicarsi il diritto di contemple la Coppa delle Grandi Orecchie al grande Barcellona di Luis Enrique. E' stata una partita incredibile, gentili ascoltatori, una partita in cui la formazione bianconera Campione d'Italia ha messo tutto in campo, il cuore, la testa, le gambe, l'anima, la voglia di rendersi immortali nella storia del pallone.